La Puglia, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, ha messo in vetrina i suoi tesori mare, sport, nature, gastronomia, arte e cultura, tradizione e spiritualità, eventi e intrattenimento grande successo ha tenuto l'area show cooking con mini corsi di cucina e laboratori didattici organizzati dalle masserie didattiche in collaborazione con il Movimento del Turismo del Vino di Puglia un successo che ha valorizzato i prodotti del territorio pugliese così come ha spiegato l'assessore alle politiche agricole e regionali Fabrizio Nardoni. Come ben sappiamo ormai tutto è legato al settore dell'enogastronomia, il territorio, le bellezze del nostro mondo della ruralità abbinato all'enogastronomia continua a portare questo grande successo che anche il sistema turistico ha nella nostra Puglia. Naturalmente adesso non possiamo assolutamente rilassarci, dobbiamo assolutamente cercare di mettere in campo progetti che raccontano ancora di più i nostri prodotti e la nostra terra perché quello che sentiamo è che c'è questa necessità di promozionare il prodotto ma dobbiamo legare il nostro prodotto al nostro territorio. Tutto questo lo stiamo facendo anche grazie al fatto che abbiamo questo marchio di qualità che si chiama marchio di qualità di Puglia tramite il quale dobbiamo garantire la tracciabilità e la qualità alimentare ma soprattutto possiamo mettere in campo anche azioni promozionali e di internazionalizzazione. Adesso abbiamo deciso con questa nuova politica di governo regionale di cercare di fare squadra sempre di più con i vari assessorati. Nella piana della Puglia, sud-est del Tavoliere, fra il mare Adriatico, Chebagna, Zapponeta e Margherita di Savoia con i suoi 3.871 ettari di superficie protetta, è la più importante zona umida dell'Italia centro-meridonale e si trova sul territorio di Trinitapoli, una delle bellezze del nord barese promossa alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Immagini della cattedrale e della zona umida si sono alternate durante il convegno organizzato dalla BAT dove l'attore andriese Riccardo Scamarcio ha legato la sua immagine al territorio della più giovane delle province pugliesi. Con le raffigurazioni della cattedrale e del parco della zona umida Trinitapoli è stata protagonista un'occasione importante per promuovere il territorio così come ha spiegato il presidente del consiglio comunale di Trinitapoli, Mino Albore. Un grande evento quello della BIT dove troviamo la possibilità di promozionare il territorio pugliese soprattutto della BAT ma soprattutto del territorio di Trinitapoli Trinitapoli che offre una grande e ampia vasta attività promozionale del territorio e di quelli che sono i prodotti enogastronomici si va per esempio da quelle che sono le estensioni delle saline che insistono sul territorio di Trinitapoli e nello stesso tempo quella che per miglior veduta è la zona umida estesa con il suo fenicottero rosa che porta veramente autenticità al nostro territorio. Non solo la zona umida ma anche i prodotti tipici hanno caratterizzato la promozione turistica di Trinitapoli alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. I prodotti tipici locali che praticamente vanno da quella che è l'attività promozionale del carciofo nonostante ci sia la fiera internazionale che si spinge fra San Ferdinando e quella che è la sagra vera e propria del carciofo all'interno del territorio di Trinitapoli. Grazie per la visione!